Il Liceo Artistico L'amico Damiani, ormai ex alunno del Liceo Artistico, è venuta l'invitarmi personalmente e non potevo mancare. Per due motivi. Prima perché divendico con orgoglio che le capacità tecniche le avrò acquisite a scuola grazie all'insegnamento dei docenti, quest'anno Aranjo, Ceni ed altri, e quindi sono orgoglioso di questo. Ma ho orgoglioso di vedere i lavori e le opere che si è riuscito a fare, dando anima, dando creatività, dando sensibilità e sensazione a tutto quello che tu hai manipolato e quindi trasformato. Credo che se ci dovesse essere un riconoscimento al Liceo è proprio il vostro lavoro, la vostra capacità di esprimermi a questo livello. Quindi io con orgoglio che sono venuto a questa iniziativa, a questa mostra, perché mi auguro che tanti altri alunni come te abbiano la capacità, la voglia e le capacità di arrivare a questi livelli. Grazie perché hai fatto tesoro dei nostri insegnamenti. Grazie. 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 Grazie.